È la senatrice Simona Petrucci, la nuova presidente della commissione bicamerale di inchiesta sulle eco-mafie. Una storia amministrativa, la sua legata al settore dei rifiuti, già assessore all'ambiente del comune di Grosseto, è stata eletta nell'ultima tornata elettorale tra le fila di Fratelli d'Italia nel collegio uninominale Grosseto-Siena-Arezzo. Più volte ha visitato dopo la sua elezione il termo valorizzatore di San Zeno, adesso questo nuovo importante incarico. Io faccio parte ora della nuova commissione che è Camera e Senato sulle eco-mafie, non solo membro ma il partito mi ha fatto capogruppo proprio per portare avanti delle linee guida che sono del partito e sono però, mi permetto di dirlo, anche attribuite a persone che conoscono la materia. Quindi hanno fatto una scelta un po' particolare. Ormai si sa, io vengo da quel mondo, io sono 26 anni che lavoro nel mondo dei rifiuti e quindi nuovamente il partito mette persone per meritocrazia e non solo per appartenenza politica. Un tema delicato, un tema che a volte anche divide, quindi ha bisogno comunque anche di scelte coraggiose. Molto, si pensi ai termo valorizzatori, si pensi a tutta quella che è la parte della chiusura del ciclo dei rifiuti. Divide ma dobbiamo far capire questo tema perché purtroppo oggi ancora troppe poche persone conoscono questo mondo. Ancora ci limitiamo a parlare di rifiuto come una cosa che non ci piace, che deve rimanere lì, qualcosa che dannoia. Ne produciamo quantità enormi, siamo a oltre 500 kg di rifiuto a persona all'anno. Quindi immaginiamoci se non poniamo dei rimedi e se non capiamo effettivamente qual è il ciclo di chiusura è inutile continuare a puntare il dito che questa cosa non va fatta e non va bene. Scelte importanti da fare, condividendole però sempre con la collettività.